A proposito, io combatto ancora per la targa sulla casa di Lucio Dalla a Roma, che è a vicolo del buco, io ho detto vabbè se non lo fate voi lo faccio io. Questa è una cosa diciamola seria e diciamola bene, quindi io vorrei che per me fosse ricordato Lucio la casa dove lui ha dimorato, ma non solo dimorato, ci ha scritto un sacco di canzoni. La notte dei miracoli. Esatto, che a vicolo del buco io ci passo ogni giorno davanti a casa di Lucio, la chiamerei proprio la casa di Lucio, ce lo metto io, se non lo fate voi. Voi chi? Voi non so, comune di Roma, comune di Roma, comune di Roma.